Buongiorno a tutti, siamo qui per celebrare l'inizio dell'anno scolastico con l'ormai consueto appuntamento di tutti a scuola, voluto dalla Presidenza della Repubblica in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, siamo a Taranto, io sono arrivata qui tre giorni fa e mi sono subito innamorata di questa bellissima città che ha non solo un mare ma due, il mare piccolo e il mare grande, quando siamo arrivati la prima cosa che ho visto è stata l'Ilva, l'acciaieria più grande d'Europa, è impossibile non vederla perché è immensa, due volte la città e con le parole di Papa Voitila possiamo dire che è una città dove vivono le speranze e le delusioni del lavoro moderno, una città ferita, ho visto dove si allevano le cozze, ho visto le colonne doriche, ancora mi manca il Museo archeologico nazionale di Taranto che ha un nome bellissimo, si chiama Marta come una femmina perché è uno dei più belli d'Italia, benvenuti siamo qui, ciao a tutti, ciao a tutti gli studenti, siamo nella scuola primaria Giovanni Falcone che ci ospita, uno degli istituti, una delle scuole dell'istituto Luigi Pirandello, dell'istituto comprensivo Luigi Pirandello, scusate, sono emozionata perché è il primo giorno di scuola anche per me e sono circondata dalle scuole e dai rappresentanti delle scuole di tutte le regioni d'Italia, fatemi sentire, dov'è l'Abruzzo, il Molise, il Trentino Alto Adige, la Sardegna, insomma, ci sono veramente tutti e siamo in attesa che ci raggiunga il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella accompagnato dalla Ministra Valeria Fedeli, la Ministra dell'Istruzione che in questo momento stanno visitando la scuola.